Incendi appiccati in pieno centro con dei cumuli di immondizia da soggetti non ancora identificati ma su cui si stanno concentrando le indagini delle autorità. Intanto a Magente il tema sicurezza è diventato tema di dibattito anche politico per le opposizioni Partito Democratico con il suo capogruppo in consiglio Enzo Salvaggio in testa. Infatti il problema sta nel fatto che l'amministrazione non abbia investito in sicurezza se non in telecamere e pattugliamento del territorio. Per Salvaggio servirebbero invece investimenti di lungo periodo che vadano ad affrontare i motivi del disagio giovanile manifestatosi più volte violentemente in questo anno e che prevengano il verificarsi di queste azioni. L'assessore alla sicurezza e vice sindaco di Magenta Simone Gelli si sente però di rassicurare sulla situazione generale della sicurezza a Magenta. Una città che ha subito alcuni momenti di tensione con l'incendio di alcuni cumuli di immondizia che era stata portata in mezzo alla strada. Come dicevo i carabinieri e la polizia locale stanno visionando le telecamere non solo del circuito pubblico cittadino ma anche quella di alcuni privati e commercianti che ringrazio per il sostegno e l'aiuto anche nei primi momenti dopo che gli incendi erano stati appiccati. Speriamo ovviamente che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia. Voglio dire però che la città non è fuori controllo come ha scritto qualche d'uno. È una città che sta lavorando anche da questo punto di vista. Ricordo che dal 2017 ad oggi abbiamo installato 60 nuove telecamere questo per avere un controllo più efficace e soprattutto durante tutto l'arco della giornata quindi durante tutte le 24 ore del nostro territorio. Quindi andiamo avanti a lavorare con una sinergia importante tra polizia locale, carabinieri, guardie di finanza e polizia stradale. Grazie a tutti.